Bene, allora, domenica abbiamo l'ultima gara di questa prima fase, abbiamo la trasferta a San Bonifacio e giochiamo la gara di ritorno contro i Gevo. All'andata qui abbiamo fatto una bella vittoria che sicuramente caricherà in modo positivo le ragazze, ciò nonostante come nell'ultima gara affrontata c'è da andare assolutamente con determinazione, con serietà e con voglia di affrontare ogni pallone al massimo della concentrazione perché sono sicuro che nonostante andremo a giocare contro l'ultima e nonostante loro non abbiano più nulla da guadagnare dalla partita, giocheranno comunque una gara rilassata, provando anche magari delle situazioni nuove che andranno probabilmente magari anche a destabilizzare le nostre, avendo appunto nulla da perdere dalla partita. Noi dal canto nostro invece avremo comunque da provare a fare risultato, quindi sicuramente ci sarà un pochino di tensione, anche se comunque conosciamo l'avversario e sono fiducioso che potremo fare domani riposo e venerdì una buona preparazione partita in vista della gara del weekend, quindi ci vediamo domenica, grazie.